musica Signori e Signori Bentornati Nella Challenge Dove andremo a fare Il Draft Più forte Della storia di FIFA Signori E poi a tutti i genitori Bentornati al mio canale Siamo Dallox E oggi signori Siamo finalmente Tornati in una nuovissima Challenge Oggi signori siamo Con la 196 Rated Challenge Food Draft dove praticamente cercheremo di fare questo draft che signori è possibile ma allo stesso tempo impossibile signori Quindi dobbiamo cercare di avvicinarci il più possibile e vediamo quando riusciamo a fare Prima che inizia il video lasciate un commento qui sotto facendo 3 pronostici sui 3 draft che farò signori Quindi pando alle ciance lasciamo 3000 like per questa challenge e incominciamo subito signori Allora signori andiamo a selezionare il modulo ok 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 no buttiamoci su un 4-3-3 il primo tentativo dai Attenzione andiamo a veri capitani Ok tutti i capitani di merda tranne Niesta che è 89 quindi prendiamoci Niesta signori Busquets ma questo non è Busquets però Vabbè No Sto a morire Ci prendiamo Nengolano 89 perché alza l'intesa andiamo con la T Let's go Dai signori che schifo non sta uscendo niente Che ci prendiamo Andiamo con la sinistra perlomeno di qua Uh Ronaldo 98 che culo direi signori Mamma mia che schifo Forza del sino sinistro ok neanche qua niente Incredibile signori Marcello Buono 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 Prossima di seppuccia messi 99 buono e ce lo andiamo a mettere qua nezzo Ok signori andiamo a quittare questo draft che è stato veramente il più brutto che abbia mai fatto Allora signori andiamo con i moduli attenzione eccolo Eccolo il 3-4-3 che aspettavamo perfetto 3-4-3 devastante andiamo a vedere i capitani ok iniziamo male Molto male signori E volevi Let's go prima riserva ok Royce 89 per forza non posso prendere i mali Seconda riserva ok Bale 92 Già va molto meglio signori Andiamo con la T Voglio un Suarez 98 Uh Chris Bale 89 va benissimo Sul ritmo dei cc eccolo Iniestone Lo mettiamo qua vicino a Bale Prossima riservuccia dai 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 Di bala 91 che è buono E infine Uh messi 98 perfetto signoroski Prossima riservuccia dai 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 Prossima riservuccia da Neal Esce perfetto 92 buono Diamo di qui Alexandro Godin 88 tutta la vita Ultime 5 riserve, signori Hulk 95, che è buono E ce lo prendiamo perché a limite Alza la media E di qua invece ci prendiamo Begnat, perfetto Ultimi Doss, Jugadores Attenzione, gli ultimi 2 Ok, Neymar 96, perfetto Siamo a valutazione 89 solo Ma com'è possibile? Sono 89 e Di Maria 94 Che capi da pennello, Fabio Però è troppo poco l'intesa Non capisco il motivo Allora, fammi fare due punti Grazie a tutti Ok signori andiamo a prendere l'allenatore Dai per favore uno decente Perché non escono mai gli allenatori Che urto Cioè guardate nessuno che riesce ad alzare la media Non ci credo Oh eccolo qua questo qua Ok signori andiamo a prendere Ferreira E abbiamo fatto il 191 Food draft signori Ce l'abbiamo fatta finalmente a fare il 191 Poi vi faccio vedere un altro draft Che ho fatto sempre Prima di registrare tutto il video E guardate qua signori Abbiamo un altro draft 191 signori Roba che si uscita di Maria94 Era un 192 Quindi signori spero che il video di oggi vi sia piaciuto Come sempre lasciate un like, un commento E vi iscrivetevi al canale Come sempre qui da Talox è tutto Tintalox Bene ragazzi Ciao Ciao